Lasciate andare a disposizioni tecniche, molti allenatori che sono passati da qua e tutti pensavano che il Milan avesse bisogno di più di una prima punta. Sentiamo un attimo però. Adesso va sul palco. Stavo dicendo appunto che probabilmente eravamo lontani dalla realtà della gente, dai cuori della gente. Questo è un aspetto che secondo me va anche sottolineato. Andiamo a Pierluigi Pardo, il collegamento da San Siro. Pierluigi. Vediamoli insieme. Siamo testimoni comunque di un momento bellissimo quello che sta rivelando ai vostri occhi. Adesso Ronaldinho comincerà a palleggiare, insomma, l'ambizione nemmeno tanto nascosta dei dirigenti del Milan è che possa fare un po' di freestyle, come dicevamo prima, con Adriano Galliani, che possa far vedere qualcuno dei suoi numeri da capogiro, che ha fatto vedere in questi anni a Barcellona. Quindi adesso, insomma, al di là delle mie parole, lo spettacolo, immagino, lo faranno i loro piedi. Eccoli qua, Alessandro. Io fossino i bianchi sarei un po' in difficoltà, invece loro mi chiamano perfettamente a loro asia. Ecco, guardatevi il pallone perché voglio vedere anche i loro valendini. Il palleggio di stinco è una specialità del sportivo. Stinco notevole. Anche. Cioè quello lo faccio anche io. Lo fai anche io, sì. Il palleggio di tanco è un po' più. Allora, vediamo un po'. Pierluigi. Guarda intanto ti posso dire che abbiamo già sentito la canzone che i tifosi del Napoli cantavano per Maradona Uè mamma è innamorato qualcosa del genere, ho visto Maradona e qui è diventato ho visto Ronaldinho Insomma credo che dal punto di vista della spettacolarità nella presentazione di un giocatore ci avviciniamo a quei livelli lì Insomma quella presentazione è rimasta nella storia e qui un po' lo stesso tipo di emozione Allora questi numeri solitamente sono finestre stesse Sì ma adesso lui si diverte sicuramente però è un qualcosa in più che lui fa come giocatore Ma infatti volevo sottolineare quello che diceva Lui ha una forza incredibile, è un giocatore che poi tornando al discorso di prima Lui ha giocato tante volte anche il Barcellona come prima punta scambiandosi con Samuel Quindi è un giocatore che quando è in condizioni fisiche ottimali fa la differenza Anche perché dà l'impressione di essere un po' gracile, in realtà gracile per niente Perché ha una potenza, una forza, una capacità, nello scarto incredibile Chi lo ha osservato dal bordo campo o sul campo come compagno come Demetrio Albertini Insomma ha sempre sottolineato questo connubio tra la tecnica e la forza fisica Sì Voglio sottolineare che non è facile palleggiare così, davanti a 30.000 spettatori Grazie Perché veramente Ok, ringraziamo Con un arancio come fece Maradona Abbas Faride, Tuzanin Grazie, grazie, thank you